Maggio, 31 rose per Maria 27 giorno, consacrati per essere icone di Maria Ogni consacrato e ogni consacrata che porta nella propria consacrazione Maria Vergine è capace di raggiungere Gesù con un colpo d'ala dargli un bacio e poi di scendere per respirare in terra d'esilio la freschezza della comunione divina O Madre Immacolata, Tu sei lo stampo perfetto di una totale consacrazione a Dio Sei esempio attuale di una autentica cristianità Tu sei la via privilegiata di Gesù Signore Noi, popolo in cammino, desideriamo percorrerti ammirare i Tuoi paesaggi e ascoltare le Tue storie sulla vita di Gesù Così, pieni del desiderio di incontrarlo, camminiamo spediti senza volerci più fermare Consacrerò il mio futuro alla Vergine Maria Consacrerò il mio futuro alla Vergine Maria